Mi sento bene, mi sento bene entrambi. Vabbè, andiamo su testa, vai. Andiamo su testa, vai. Ma guarda Michielo quanto è figlio di trota. Ora vedo anch'io quanto... Michielo è un figlio di puttana. Perché ragazzi voi non sapete la lore. Eh, la lore. Luca, ma io ho accettato l'invita, ma non ci sta nessuno. Perché? Accetta questo. Te ne hai rimandato un'altra? Sì. No, aspetta, reinvitami. Ah, aspetta perché sono... intanto sono entrato anche su TS io. Ragazzi oggi sono... Anch'io. Una persona molto felice. Ah, adesso arrivo su TS. Perché oggi avevo una forte paglia di birra. Ma noi di solito non ce l'abbiamo a casa. E... Arrivo, avevamo ospite a cena. Mi hanno comprato la birra. Quindi mi sono fatto 4,66 centilitri. E sono abbastanza felice. Ubriaco, Marco. Ti dici ubriaco. Felice dai, felice. Eccomi qua anch'io su TS, quindi esco da Discord. Anch'io. Anche la dovuto chiudere all'istante. Sono bellissimo. Ok, eccomi. Oggi provo una persona nuova che si chiama Monaco. Però prima di farmi il Monaco, metto il volume di gioco. Io andrei esperto di trappole. Apri il mixer volume, mettiamo il gioco... Quindi il Monaco è tancoso? No. No, il Monaco non è tancoso, però il Monaco è una cosa molto... Strasbronzo, Marco. È una cosa molto buona perché c'è già la cuore di gruppo, mi pare. Ah, buono. Le informazioni di classe. Abilità, cura di gruppo e disciplina. E... bah. Che belli i monaci. Eh sì. MQ. Sì sì, grazie per il bentornato, grazie per il bentornato. Faccio anche... che cazzo? Faccio anche un gioco di parole. E come si dice Monaco in inglese? Monk. E invece guarda come mi chiamerò io. Monk. Eh, va bene. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Lo apprezzo. Allora, un attimo che mi vesto. Mi resta così che sembra un marinaio, dai. Quale cappello? Il cappello va bene. Aspetta, buono. Ah no, aspetta, ho svegliato. Abiti da... Il Monaco agli al di gruppo dall'inizio. Perfetto. Con la botte dietro. O per errore. Ok. Dai, sono praticamente... Un bellissimo marinaio. Qua cosa sto vedendo? Ma perché io sono diventato donna? Però sono un marinaio, ragazzi, che mi sono... Si è appena fatto il giro alla circonnavigazione dell'Africa e appena tornato da Capo Horn e sono così. Però biondo. Eh, ottimo. Vorrei far notare che Michio ha tolto la sub. Ma... Come? Michio? Ma Michio anche d'arco! La gente non ci suba più. Eh, niente. Abbiamo finito i soldi, ragazzi. È andato. Eh, Marco, leggi. Oh! Un altro cacciatore di tesori. Diretto a Frostbite Peak, al nord. Beh, ho delle brutte notizie. La gilda degli stivatori non è stata pagata. E ho chiuso i porti. Dovrei restare qui fin quando non risolviamo il problema. SDT è il giocatore, ok? Vedersi che abbia bevuto qualche mullo di Faurul di troppo. Ieri sera ho smarrito i libri mastri che ci servono per pagarli. Ho bisogno che tu ripercorri i miei passi e trovi quei libri mastri. E questo perde i libri per andare a ritrovare noi. Sì, da, dopo. Sì. Ciao Matteo! Trova Taverna alla foresta guardiana e risolvi il problema. Ok. E vai. Dove andiamo a risolvere i problemi? Aspetta. Trova gara terminata alla foresta e risolve il problema. Trova carro distrutto alla foresta. Quanta roba! È tutto in questa zona. Questa è la foresta guardiana. Dobbiamo girare. Vi dico una cosa. Tizio alato. Allora. Io andrei con il vostro secatore della foresta. Aspetta. Ascoltatemi un attimo prima di cominciare. Allora. La parte invernale c'ha tre zone. La prima ti toglie uno di, ti fa uno di donna al turno. La seconda ti fa tre e la quattro. E la terza ti fa cinque mi pare. Quindi conviene stare comunque il meno possibile fuori. Eh, ok. Sì. Sto prendendo la missione. Volete oro? Un oggetto? Allora. Non ci sta caos in questa modalità però ci sono i cosi come si chiamano. Sì. Dall'altro lato della mappa dobbiamo andare. Vabbè. C'era una mistercina. Ci sanno i flagelli. Quelli. Quelli di Armello. Hai visto Michiro. Sì. Loro. Scusa. Non volevamo farmare neanche un pochino. Facciamo noi mase. Combattiamo noi. Non sei scemo. Io perché avevo cinque momento sto andando a prendere. Ciao Luca. Ciao Luca. Vaffanculo io mi vado a prendere l'eroe di prono. Ragazzi ma quanto sono belli i dragonforce? Forza. Molto. Sono una forza. Del drago. Forza. Vai andate divertite. È uscita una vespa. Sito. Mase. Marco io direi di andare a combattere. E non posso combatterlo il forsicatore della foresta perché non ci entri tu nella battaglia. Contro l'uomo bestia sì. E facciamo l'uomo bestia? Eh sì. Ti combatterò col potere dell'uncino. Ma il nome senza rossa cosa lo dobbiamo? Cosa chiede Artyom? Città viking? No. Città al disossato. Al disossato. Ma il porco disossato. Ma perché abbiamo un problema vero? Abbiamo tutti i danni fisici. Io pensavo che l'esperienza di Tappo facesse qualcosa di magico. Io credevo che il monaco facesse qualcosa di magico. Anche io credevo che il monaco facesse qualcosa di magico. Io ho preso il fabbro perché pensavo servisse un tank. No. Il tank serviva. E vai! Ma se... Michio, il monaco che skill può magicare. Ciao Isa! Ciao Isa! Ciao Isa! Alla, legge un attimo. Io ho del... Ho dell'intelligenza quindi posso castare. Lo raccolgo, non ci fa niente a nessuno con questo. Talento e fortuna, no. Qualcuno ha fortuna. Ci sono tutti i dati a 50, ce l'abbiamo. Vabbè, per adesso che mi serve un po' di cose l'equipaggio. E comunque è bello perché sento laggare TS invece. Allora siete... Allora è lui. Allora sei stronzo. No, no, ma io invece sul disco andavo benissimo. Perché non passa il turno? Ok. Ma ragazzi, ma io sono un povero di merda. Aia! Mi dispiace, Mase. Allora, vediamo un po'. Mercato. Voglio una pipa e non posso comprarla. Senza si può usare il talento per fare un semibardo. Pure! Va bene. Perché senza cosa hai del talento? Hai del talento? Eh, anch'io ho talento. Abbiamo lo stesso talento. Sì, sì. Mase. Sì, Marco. Ti aspetto qua e ci facciamo la barbara. Ma ti prendi un danno da cacchio. Mase, lo faccio per te. Va bene, grazie. Figurati. Perché sono tornato? Queste gioco perché sono tornato. Sì, Mase è tornato da una vacanza bellissima, ragazzi. Andate affanculo! Adesso faccio tre di passi e non possiamo andare a combatterlo. Ah, invece. Amici, dopo domani tieni d'occhio il cubo. Eh sì, ragazzi. Perché dopo domani, attenzione, ci sarà finalmente il coming out di Luca. su YouTube. Ah, così. Su YouTube, poi. Sì, sì, sì. Particolare. Come è Guglielmo Scilla. Esattamente. Guarda, ragazzi, avete fatto due colpi perfetti. Mi dispiaceva proprio rovinare tutto ciò. Eh, invece. Per un attimo anch'io. Eh sì. Eh sì, ragazzi, sì, 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 sì. Allora il monaco finalmente ha preso coraggio. E ha deciso di raccontare a tutti. Eh, passano a me la barbatina, poi. Eh, invece no. No, dai, ma no. Ma serve da bene il coming out di Luca? Dato lo sappiamo tutti. Eh beh, ma le autorità non lo sanno. Esatto. C'è la begera. La vecchina. La vecchina. La vecchina. Ah, nella tempesta perdiamo. Ok. Questo ha già preso tutto. Quanti soldi ho? Ne ho cinque. Che palle, voglio comprarmi la pipa. No. Eh, fuma, però. Non c'è i soldi. Sono povero. Guardate, faccio così. Anche se sono povero, comunque dormo un po' la locanda. Adesso sono completamente povero. Ma sei scemo. È presente full vita? Non voglio essere full vita. No, ma qua perdi due vita ogni turno, ragazzi. Cosa vuol dire quello? Quello è perdi un turno opposto perché, per forza perché ci sta il maltempo. Cioè c'è un check fallito perché ci sta il maltempo. Cazzo, ho fatto due. Lui nemmeno per il maltempo. Lui aveva proprio il check fallito. Ragazzi, Masi ha preso il posto di Dado, mi stai dicendo? Eh, infatti ha preso il Fabbro. Ah, vedi, è vero. Adoro il Fabbro che fallisce di camminata. Movimento? Camminata. Ah, camminata. Ok. Proprio il termine corretto. Sì, amici, sono stato in live perché sono stato in Belgio per lavoro. Lavoro. Si sarei stato in ieri a casa. È stato lì, si è divertito, ha mangiato, ha bevuto. Ti auguro di fare un viaggio di lavoro e bestemmiari santi come ho fatto io, Marco. Grazie, Masi vuol dire che lavorerò. Ingaggiate la Vespa, la prendo anch'io da qua. Allora, senti, guarda, lo ingaggio ma non perché l'hai deciso tu. Grazie. Che rumore fastidioso. Possiamo disintegrare. Sono pure più veloci di noi. Eh, vabbè. E perforano tutto, Luca. Eh, vabbè. Ah, non è Mase quello. È Mase. Vai, Mase. Vai, Mase. Vai, Mase. Lo devo andare. Perfetto. Ci penso io. Una zicca migliore. Un, due, tre. Un, due, tre. Ah, che bene. Non posso fare l'attacco a voi adesso. Ma io ho una spada di ligno, ragazzi. Ho appena notato. Madonna. Mi chiamo ancora. Per fare 4 danni. Per farvi e fare 4 danni. Forza. Ma tu sei veramente uno stronzo di merda. Mamma mia, Luca. Con quel pisellone. Eh, pazzo e poveraccio. Dove stare davanti da... Ti, 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 ti. Ti, ti. Eh, Mase il prossimo non... Il prossimo intorno ti cu... C'ho la... La cosa. Mi direi di non andare dall'accampamento del bandito. È la madosca, quanti danni. Vai, Bonk. Un Bokken. Oh, no. Mase. Eh, vabbè. Eh, Marco, giriamoci e faiitiamo. Che dobbiamo fare. Eh, appena tocca a me ti cuore dal veleno. E questo non mi ammazza prima. No, ora che ti faccia 14 danni in un turno dovrebbe... Ah, tanto attacca a me. Vai, Mase, ci penso io. Col potere dell'uncino. Usa concentrazione per essere sicuro. Come ti chiami? Senza ossa sei tu, vero? Sì. Perfetto. Mamma mia, Mase! Non sono più avvelenabile. Ti è beccati questa cosa. Ma sei ancora avvelenato? No, non è avvelenato. Ah, ok. Proprio... Sì, c'ha l'effetto vissima ancora addosso. Evviva, ma perché prendo poco soldo io. Perché sei un monaco, a te non servono i soldi. Ah, ok. Va bene. Campi con le offerte. Allora, me ne vado su. Ciao. Ciao. La statua di bronzo! Uh, anche le mie orecchie. Bella. Grazie. Ah! È il turno di Torfinto. Vai, tizialato. Eh, questo oggetto va riportato indietro. Ok. Eh, tenete punti esperienza. Evviva. Eh, io lo riporto indietro. Che ha fatto cotolone Dado? Eh, penso abbia fatto pietà. Provabile. Ma se noi andiamo su e ci andiamo a fare accampamento bandata. No, non ce la fate. No, scherzo. Però andiamo in città. Fatevi quella a sinistra. Fatevi quella a sinistra. Io mi faccio una... Oh no. Un culo. Un viandante guaritore. Eh, fallo. Ah! Ah! Ma se le mie orecchie! Ah, qui c'è una cassa. Buona a sapersi. Eh... Per non fare un cazzo? Eh... Tanto dobbiamo esplorare. Quindi, boh, andate a destra, tipo. No. Posso rimanere in città senza fare un cazzo? Sì. 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 Ok. Mi fa piacere Michiro. Eh, mi sono caccato anche io, Michiro. Eh, ragazzi, addirittura. Ho fatto un... Ah! Dai, Luca. Ho fatto dei check fortissimi. Ah, noi due, eh? Minchia, uno solo a livello zero. Spero che ci riusciamo. E fu così che morirono entrambi. Eh, io ho vinto, eh. Vinti dei giocatori della Sampi in campo. Ho la punta bella con... Urca valurca! Ovviamente! Ovviamente! Te due, io nove. Ma stai zitto, nobbo di merda, guarda. Colpa tua! Mamma mia! Con la spada di legno! Ehi! Manci darsi di un monaco. Qualcuno ha livellato. Io? Tiè. Imbecillo. Passamela. Eh... Passamela che sono quello che c'ha più forza. No, è male. Beh, non è vero. Sono io quello che c'ha più forza. Va bene. Io la raccolgo e poi la do a mate. No, io la raccolgo e poi la do a mate. Un maron. Un maron. Un maron. Ah! Eh! Il flauto. Del culo? Eh, sì. Faccio sempre. Ogni tanto. Poi mi sorprendo sempre quando capita, però... Ma qui c'è una cosa che non conosco. Io ci devo andare. Cosa? Ah. Ah, cosa vuole. Rovine. L'occhio del fato. Sicurezza. Sì, sì. No, mi serve quell'esperienza. Il gruppo. Ok. Yeah. Qualcuno è saluto di livello. Poi, Marco. Do questa a mate. Hai una lama rugginità. Equipaggiatela. Aspetta un attimo. Equipaggiato. È il martello del fabbro. Eh, sì, mi sa. Oddio, non penso sia fra... Non so. Quanti c'è che c'ha da spada, mate? Ma perché esci? Ma perché esci per uno? Perché mi avvicino. Ma che cazzo gli avvicini? Ma prendi l'idea? Eh, voglio andare là. Ma è per un danno. Mi vado a curare dopo. Dove dobbiamo andare? Eh, sì. Te puoi andare al punto interrogativo. Dobbiamo esplorare. Ah. Allora, come ora? Perché poi bisogna andare a uccidere il bandito al soprano. Vai, mi merdo! Che culo, mate. Che culo, mate. Che culo, mate. Scudo clipeo. Eh... Equipaggiato. Sono un clipato. Oh no! Occhio attento. Puh, nulla. Eh, due movimento ci faccio... Eh... Qua! Uh! Eh, un teletrasporto. Devi trovare la sua cosa. Eh, buono, buono. Eh... Basta. Sono fortissimo. Mamma mia, ma se... A me non porto. Che rip. Eh... Chissà perché è chiuso. Chiedo scusa. Chiedi scudo? Chiedo scudo. Vabbè, dai. Mi muovo. Dado, ma... Possiamo anticipare i nostri amici quello che succederà dopo? Fate sesso. Anche. Live. No, c'è stata una bellissima... Live. Serale. Devi bastare, comunque. Scusate. Ah, perfetto. Dado. Cari amici. L'appuntamento col cattura le scimmie. Ma le scimmie vere, non quella che pensate voi. Eh... Torna stasera con il buon Dado che... Andrà avanti nella sua quest... To... Ehm... Matteo, io appena posto mi faccio... Mi salgo l'intelligenza. Ho un oggetto... Ok. Ho trovato un oggetto... Ho livellato, amici. Ho fatto una linea di livello Mase. Che bello. Di livello Mase. Merda. Cazzo. Talento e Mase. Cazzo per uno. Ehm... Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao Luca. Perché lascia... Lasciar perdere, no? Funga. Oh, amici, amici. Che staghezza. Non ha istinti amicini. Ah... E' il mio turnico. Però non c'è nessuno con cui posso combattere. Combatterò da solo? Sì, combatterò da solo. Vai. Vai Mase. Farci vedere come sembra... E che cazzo? Sapendo di punto di vita questo. E non puoi... Non puoi bagnarlo. Non puoi confonderlo. E io lo accoltello. Tranquina Mase. Mi hai preso troppo danno. Muori. Ci sarà un momento in cui sbaglierai entrambi i cerchi e la spada. Lo so. Lo so. La spada si spaccherà in mille pezzi. Tanto sarà contro un mini boss. E io vado qua. Mi prendo un danno perché... Mi piace il freddo. Eh? Io? Io? Io te? Io te che la sai? Io te che la sai? Oh no. Demegere non ce la faccio a farla. Vai Luca culo. Ehm... Il mercato notturno è chiuso ma io vado... Ehm... Non posso andare qua? Ah 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 ah. Stai facendo dei cecchi di merda amico mio. Sì tantissimo. Ma? Imboscata! Già che ci sono... Eh, adesso viene ucciso una vecchia guarda. Dai, fa due attacchi di fila. Parla! Devo fare almeno due cecchi per ucciderla. Ok. Trittata addirittura. Ma perché i ultimi sono vecchia Luca? Perché lui in realtà lavora per... Lavora per l'IMPS. Eh niente. Non posso vedere cosa ho accanto. Bestemio fortissimo. Davvero adesso? Oh no Dado. No dai Dado non farlo. Ehm... Ma Marco sei dentro al pozzo? Eh... Eh... Sì sto notando Valaldo. Oh cazzo non posso combattere allora. Agi scoperti una caverna oscura. Eh... Bucchi! Eh... Giusto trasvero. Dai adesso andiamo a farlo insieme. Ma se arrivo. Dobbiamo essere tutti. Affronta questo qua. Affronta l'accampamento sciamano bestio. Ma se combattiamolo. Ma sono un po' troppi. Ma se ho un lato. Siamo maledetti ciechi. No. Mi paro. Ah no. Attacca il lupo. Va bene Masi. Muon lupo! Oddsingles ragazzi. Vediamoci il lupo da mezzo va. Quanto! Che paura Masi! Che dato freddo! No! Sto leggendo un attimino quello che diceva Mone. Mi sa che stanno succedendo cose brutte in campo. E che cazzo! Ah! Quell'uomo bestia deve morire. Oggi farei fuori. Vuoi fare fuori l'uomo bestia? Si. Ha ruttato? Si. Come ti permetti di ruttare in live? Ecco bravo. Gli hai toccato la tetta. E gli ho fatto uscire le ossa. No per favore! Sono maledetto sbrunzo. Si è un attacco magico ma ti tira il coso in testa. Perché è un libro legato a una cosa di legno. Vai! Fallisci due check! Che paura Masi! Masi! A Gvind! Mamma mia Masi condividi. Uh! Eccolo il basso. Ah no è talento però è talento. Io ce l'ho. Io ho talento. Prendetelo poi me lo date così vado di danni magici io. Però effettivamente dai ci sta. Uh carino. Ma fallutare a Marco che ne ha meno di tutti. Scusi. Ma se mi odia. Chi se ne frega di Marco. Scusi non so condare. Scusi. Guardatemi la barba divina che chiunque ce l'ha che io c'ho quella di gruppo. Però cos'è? Oh no. Il check su fortuna. Fatto. Cavolo. Hai una barba divina. Eh ora lui mi ruba i soldi. Il leoprecane. Il leprecano. Vabbè mi rubi otto monete ne è che mi rubi tante. I burricani quelli irlandesi di Harry Potter. Tu ma mori praticamente. No se ne va. Oh. Ti ruba i soldi e se ne va. Che brava persona. Esulti pure tu quanto sei scemo. Esatto perché poi mi ha messo l'animazione. È veramente una testa di caccio. Oh ma cosa è sponato lì? Un orso guerriero. Ah. Interessante. Sicuramente non vado a farlo. Sì mercato sicuramente posso far mercato. Oh la città di Artyom. Porta. Famosa perché ci sta Artyom. Eh sì. Te non puoi iniziare la caverna vero? Eh no. Facciamoci l'uccello amase. Un'altra volta va bene Marco. Facciamoci l'uccello. Faccio combattuto. E attaccano prima loro. Che cazzo. Ma se non è stata una bella idea. E che cazzo. E fallitelo un check. Eh. Porca troia. Ma si attacco quello a destra. Va bene. Ma se non è morto. Ciao Simone. Eh. Io provo a shottarne uno. Vai. Bravissimo Mase. Puro Mase. Allora. Eh. Non ricordo bene. Ma sei andata alla caverna. Mi sembra che potete riunire per entrare. Questo è vero. Guarda come siamo messi malavita. Fiazzatevi un accampamento lì fuori. E voi riposatevi. E io con calma arrivo. Sfrughiamo un accampamento così. Eh beh oh. Non è sprecato. Era mia. E io mi sembri di ridurre. E io mi sembri di ridurre allora. E io mi sembri di ridurre allora. Ha ha ha. Vedo comprami la pipa. Io dormo. E io arrivo. Con calma. Che bello l'accappamento. Non si prendono danni. Eh no. Eh no. Io mi intrometto un attimo solo per ricordarvi che il Cristo ha davvero un corpo. E che. Eh. Porco disossato. E niente. Va bene Dado. Buon annoio. Altrettanto. Ok. Ok. Dopo ci passo io dalla missione lì. E ma che faccio? Dormo. Eh. Aspettate. Che paura Dado. Eh vado a fare la cosa? La. La. No spesso. No. Passo dalla missione io. La faccio io. Tanto credo di arrivarci. Dai devo fare. Marco. Siamo qua tanto bene. Oh mio Dio. Ha esplorato il mondo. Oh no. C'è un Simone lì. Faccio la missione. Un citofano? Eh sì. Diario segreto. Profuma di petali di rose. Mmm. Spero che lei non l'abbia letto vabbè. Perchè ti rieschi tutte porcate un copacchie. E la rischio. E muori. E invece no. 15 punti salute. Ma lo dice anche discord. Solo che teniamo sempre modelli da streamer. Siamo. Azz. Sono le caverne oscure. Eeeh. Apriamo? Per me è un Mimic. Vai apri. No. Questo non lo apri il Crimaldelli. Questo però può essere un Mimic. Ok. Soldi. La mettengo l'oro perchè non ne ho. Saccura proprio. Non serve? Eh no. Fa un po' schifo in verità. Miro 5 velocità e tantissimo. Ah infatti non non. Raccolta erbe interessante però. Si è comodo raccoltere bianne basta. Ma forse è il Crimaldello ma che? Ha 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 ha. Ora abbiamo due combattimenti di fila eh. Ma sono più che pronto. Io non ho concentrazione il zero. Io prima sono nato e poi sono diventato. pronto sempre più veloce miro a lui a non faccio danni con star ma di merda no eis precipitoso boh non attacchiamo più schivate bucchi aia madonna ma schivate bucchi mamma mia quanti stiamo schivando e cavolo è congelato un problema ora prendo più danni prendi lo sciamano no lo sciamano l'uccidere uccidemate lo sciamano l'uccidemate con un colpo in caso ci sono io che lo finisco ti attaccano un altro attacco il prestigiatore fai il prestigiatore prestigioso vabbè ciao sciamano addio sciamano ma porco vabbè ci sono io dai almeno un check quanto l'idea se le visano maledetto il mondo a mi appunta no maledio stupido maledetto debole uccidi il prestigiatore e finiamola disciplina non sa nemmeno cosa faccia di uno di poco scusa e e credo sia on fire ciao gg ma porca puttana oggi ciao gg luca che si è fatta è fatta abbiamo vinto beh io mi becco un altro colpo un altro colpo un altro urpo vabbè è morto ecco ecco ma l'hai detto ma se face perché volevo fare questo e quanto anche acciccata amma fatti a marco dammi il bastone c'era viti è vero o ma se uno di un aveva il bastone sera marco più tre forze dalla matte a c'era giammato ok ma non ho messo equipaggio ma sono veramente fratello del pisello andava al 2 vabbè almeno lui era un livello più forte dammi il bastone io ho da darvi qualcosa no i sogni sono era quello col libro in alto non mi so come si chiama quello che ok lo equipaggio subito andiamo amici continuano ad esplorare la caverna oscura io faccio danni magico o no voi dovete uccidere quello in mezzo ovviamente perché vai contro ammazza il bicipistrello gg faccio 10 danni io no ne faccio 11 e faccio perfetto niente dai nei fatti 8 ho usato una concentrazione maledetto malato ma bisogna curare la maledizione di madre perché con la forza di mezzata forse posso farlo io no non so non credo tu possa curare le maledizioni troviamo no e uccide pipistrella sto punto ok potrei uccidere lo sciamano in verità allora ucciderò provo che male gli ho tagliato un braccio tantissimo che brutta situazione guarda quello appena curato io in grado che la che libro che la che lì che l'ho la lilulelo ci penso c'ho tanto il fantasma di warbird scusa è dell'uccello di guerra di guerra uccello e ti prego ok cazzo riditua ha 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 avete visti quattro soldi in intelligenza quattro anni mangi c'è poco lo prendi fu esatto lo vendi poi possono arrabbi editione non è contata come status o no beh io avanzo le palle per il guardello no no questo è una test sicura questa è proprio l'ult ok folklore e taglie ma carino pur capa l'urca prima arma fragile e 51 di forza è sì cazzo carina carino perché l'ha data a me che l'ho passata la passata allora me la tengo ritengo anche la lama arrugginito nel caso questa me l'equipaggio io meno un po d'armatura prestiamo andiamo perfetto allora piccolami la maledizione come cazzo faccio che andare in città perché non abbiamo le potere andare non basta che vai non di città anche nel per andare città dobbiamo passare la capo di gelatina insomma farà io mi muovo è dato che il combattimento è un po aspetta della capo avendo marco qual è il problema medico ai cimici devo riposare quale la capo i mici 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 i mici mici o erba della megera o in città o l'erba della megera mi sa di no no una barba di vini o l'erba della megera se lo prende ai all'ortica danzante e quindi siamo tutti fottuti bisogna avanzare di uno sarei qua per farlo è ma io ora mi devo riposare ho 16 di vita aspettiamo da quei livello è il cubo uno ce la facciamo calcola con questo testa gli al due io non no non da 7 di esperienza è certo no no a vabbè non è una volta furti ma se avevi sto qua a prendere un po di freddo più a livello 1 ed è pronto a eliminarci simone preparati a morire 11 diretto fai l'altro io se non sbaglio posso anche bruciarli nemici o faccio danni ad aria no no non mi risposto ti prego non usate concentrazione qua lo dovremmo uccidere comunque con gli attacchi normali l'ha ucciso brava la mamma se veramente un bravo monaco adesso prega per lui peccatori a farà con livello 2 che non vediamo le domande a me me servono quelli del piangiatore con il i calzari dello studioso vai punto interrogativo vado subito dimmi artium falla perché tanto non serve a nessun altro io direi di andare alla missione in alto però a ucciderci l'accampamento bandito adesso ci andiamo dobbiamo anche trovare la taverna in verità è la taverna potrebbe essere qua sulla destra che è la zona più inesplorata è marco col tel trasporto quindi niente siete tutti in range di questo no però c'è ma se vieni ma andiamo combattiamo un po gli atti ok imboscata l'imboscata è utilissima l'imboscata è utile se tipo è un devi combattere più nemici e fai l'imboscata in realtà combattere ho sudato freddo amici l'arma è fragile oh porca puttana aia e io vado di attacco base e se poi ho sudato freddo su quel check l'ultimo c'è che è stata abbastanza terribile e questa va a marco no perché l'ho passata non riesco ad arrivare a wood smoke quanto la volta l'ha detto ho capito lo salto se tu non lo salto no conviene che vieni sopra mate e poi marco si usa la presa maniera del tel trasporto se perché guarda due monete d'oro per questo ah beh io 17 in realtà in effetti a me non serve vuole farmi un giro al mercato per vedere se c'è qualcosa di utile per la mia persona buonanotte simo buonanotte simo arrivigliati mi nascondo è stato inutile no ma solo perché so che lì non dai 5 check 4 vanno bene allora mercato vediamo un po cosa c'è ah 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 marco la pipa poi se non compra agi frutti e soldi bellissimo il corpetto quanto ti dà? più 4 armature ha più 2 forza ah no cavolo ti dovevi curare dalla maledizione e beh marco prestami dei soldi eh non posso ciò precisi va bene allora scialla ah scusatemi hai ragione datanca sono un coglionazzo eeeh se aspettate ingaggio il pipistrello e faccio l'imboscata così dobbiamo affrontare solo un pipistrello ok aspettiamo allora più caldo fra un turno diventa giorno anche eh non serve male cosa? oh getti smarriti ok eeeh no meno 2 consapevolezza a me non serve a nulla ma se te lo do a te poi grazie lo ha preso 58% ok attacchiamo un solo pipistrello che bello è morto praticamente è ovvio e che guarda ma se è zitto ah mi muto ragazzi mi muto dai ma si dai che è morto e quanto non mutarti più ma se ehehehe mua ha 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 tutta questa fatica per un punto esperienza dai non è quella che serve no eeeh mi serve un prestito di otto monete eeeh non ce lo do eh potevo scendere io di una a dartele realtà ci ho pensato dopo a solo così è proprio uno stronzo questo ma che faccio ma ti do il cappello io se vieni vicino a me dai il cappello fermati in una casella vicino a me e ti passo il coso vieni cappello d'arme io ti passo la la vecchia collana ma quella è per marco è la do a te perchè tanto dopo tocca a te dopo di me la tocca a marco in realtà è bravo che si vuole a marco cosa vuole fare è voglio quella che si vuole per marco vedi il cappello che dava meno 5 velocità e dai soldi a massa che magari riesce a curarsi ma si ricorda di dare la collana a marco giusto ma tanto si ricorda tutto cavolo è un maestro il cappello la 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 aumenta il prezzo dopo la scalare dei giorni marco non mi fa prendere dici che sei nelle opzioni sei nel menu opzioni o no il cerchietto al tabbo no premies che in caso a in alto a sinistra aspetta forse si è parato no oddio cosa sta succedendo lo sto vedendo dalla live aiuto a ghiuto e che cosa questo potrebbe essere oddio se sei crashato non puoi rientrare tanto la partita l'ha fatta Luca infatti posso chiudere la partita e farla rinziare da qui si vai fallo salve dashi oh no si successiva l'ultimo salvataggio non so quali siano mi sa che devi alt f4are non so ti è uscito eh eh aspetta ok alt f4 adesso riavvio carico partita carico partita inizia la fine dell'ultimo turno e allora tranquilla proprio la cosa dai mi rinvito vicky ragazzi scusate ma stasera c'ho un somno che non vi dico sto morendo ho fatto due giorni beh no vabbè eh Marco è crashato Dado Marco gli si è frizzato tutto si sta ricreando la partita si si ci siamo ci siamo eh vi dovrebbero essere arrivati l'invito adesso posso dirne una che mi seccio fortissimo cosa? fino ad ora le campagne che ho fatto su for the king sono ancora attive è vero anche le mie no le mie no io ne ho fatte una mare mi rinviti Dado Luca ah è un Luca Marco dai dai alla seconda ci ha angarrato la terza era per per sport per sicurezza ti è arrivato l'invito quanti Luca? amici che mi dite li sono sediti per tre giorni come state? cosa mi dite di bello? come va la vita? parlo con la chat non con voi di voi non me ne frega un cazzo ma nemmeno a me me ne frega di te tranquillo ma nemmeno a me me ne frega di me Mase hai ragione eh io ci sono pronto pronto Mase stavo meglio prima eh vabbè dato si stava meglio quando si stava peggio no gli ha cambiato il check prima aveva fatto 5 eh vabbè però non c'ho più so ah aspetta per mi vendere le cose che cazzo ha fatto? Marco? hai usato un punto concentrazione al perloto a destra come lo tolgo? non puoi hai un movimento in più oh no ne ha fatto un altro ne ha fatto un altro oh no cosa sto facendo? lasmetti ma non mi fa brillare la città ma cosa sto facendo? voglio vedere la città scusa non puoi fare non puoi fare maiuscolo sinistro e cliccare col mouse non mi ha fatto fare ma spero che ti devo dire si sopravvive eh ragazzi porca troia che è diventato un raduno di depressi questo questo canale twitch ma io questa non ha preso vai ma fammi muovere fammi muovere che cazzo è sto coso? ragazzi mi sono rotto tutto perché piazzi punti? cosa hai? non lo so non lo so cosa sto vedendo? Marco aspetta probabilmente c'è un tasto che ti prende stai caldo ora Marco alt più click premi alt e ora provo a muoverti no ti hai riprimuto alt e provo a muoverti ah no vai nelle opzioni scusa vai nelle opzioni o vai opzioni controlli saluto ora ti seguo un attimo da coso no segnale mappa torna oh no levati segnale mappa non so come si fa però ci sarà un modo grazie perchico non mi fa uscire non mi fa uscire non mi fa uscire cosa sto vedendo dalla live è bellissima niente mi sa che questa rad si è fottuta così non è possibile riesce rientriamo mi sa che è proprio fottuta la rad Marco va con i propri tecnici Marco eh ma non è quello il problema perché io posso ma come clic io non ho premuto clic io non ho premuto clic che vuol dire ha premuto es che mi ha detto che ho messo clic curic tre a partita allora invitiamo dato vuoi prendere vuoi prendere vuoi entrare subito in live con 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 i pescape i pescape per cortesia salvaci tutti i pescape portarci tu i pescape e sei piotte sei piotte ragazzi ricordiamo che dopo domani sul canale youtube Luca fa i pescape ma vabbè non è entrato ma finalmente dice che i tipi di animali gli fanno più muovere i wii wii non è vero questo è una bugia oh no ha fatto coming out e premo il tasto spazio mamma mia ma se come premete spazio non lo premete sono pronto allora mi è piaciuto questo cambio marco dai marco muoviti non vendere nulla muoviti infatti per me è quello che lo rompe ma adesso ho due ma che è sta povertà no aspetta tu in questo momento c'hai click sul mostra la mappa ah si vai in controlli di nuovo e in basso premi le set si fa diretto così oppure prendi un controller ho giocato un turno che bello yes a fammi dare le monete a mase monete a mase e collana a marco eh non posso prendere l'affanculo eh no vabbè non importa buonanotte a mone no quel rumore ciao a mone buonanotte eh calcola a mone pure io infatti marco passa il turno scusate è giorno e la mia guardia inizio mi aspetto fate ringraziare a me che sento l'imboscata e allora voglio e morire io devo tornare in città e devo usare una concentrazione no ma no ma perché ma vieni qui da noi da me e si attaccano i partiti ma puttana la vita un borsaiolo ci sono io con te ti ruba tutti i soldi se non lo uccidete dovete ucciderlo nei posti due turni no 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 non hai capito un cazzo amico mio non hai capito mi sei bloccata marco un punto marco uno un punto un danno ma ma io li faccio tutti e quanto? beh perché se no m'ho disciplinato eh si più uno di fuoco i miei soldi vabbè dai passa altri soldi questi si condividi ma perché sta passando tutto marco? ora mi fa fare mi fa finire i miei passi per andare qua e poter finalmente sei piottere fruttare il servizio della benedizione per togliermi tutto oh e poi passo il mio turno ringrazio il dottore sei piottere ma quindi se lo faccio faccio così no oh no taccheggialo marco taccheggia oh no aumento di livello vabbè come un pezzetto ehi la non ti voglio vaffanculo te il voglio e fattere il tutto un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del giardino ah si? eh si marco addio mamma mia l'uomo giavellotto ma sono in due luca ma perché ma perché sono in due doveva essere uno ma controlla eh no no ma perché ho fatto l'imposcata uno ha anche lo scudo eh uccidi l'altro intanto perché tutti io i turni e vabbè se non ti ammazza adesso si eh si dispiace il sanguinamento l'ha piazzata a tutti il sanguinamento marco uccidi lui signor arco non potete aspettare un turno che arriva a voi io vero marco che cosa vuoi dammi e bam usa la concentrazione per scappare te appena io uccido lui il bandito potresti ucciderlo abbiamo per me lui ora chi attacca merda ah luca quanto ti odio fugga tantissimo l'imboscata non funziona se attacchi un campo o meglio anche se riesci quello anche se riesci quella l'interno devi combatterli tutti cazzo ecco e niente vado ti devi venire a rialimare tutti e due ahhh luca perché non l'hai aspettato mazi perché pensavo di riuscire a farlo mazi cortesemente adesso distruggo l'accampamento e vi tiro su o stiavi su da qua no devi essere vicino hai usato un ma hai usato una concentrazione e poi ma uno non può mi scriccare in questo gioco di merda però eh mi piace che dia comunque turno a Marco oh su me l'ho distratto siii recupera no ma perché cosa ma perché sei tornato indietro ti riportava lui mi portava in vita ma se non sapevo e riportava non so se sono ma se no no ritirati vabbè solamente uno non puoi risuscitarmi no e aspetta Marco ve lo dovete fare arrivo capirei dovrei bere dovrei riposarmelo fa se vabbè ma che cosa sto dicendo tutto dovrei bere dovrei riposarmi al falon che gioco vuoi giocare Marco dimmi ti curi un attimo e vieni io dico solo Luca culo quello non passa mai di moda a sto punto no rigenero anch'io anch'io e vi do una mano vabbè sì dai ma io vorrei dire una cosa i porti sono chiusi perché sono i punti interrogativi in mano in mare e niente tutti oggi no perché dopo ci puoi andare in mare dopo quando dopo un po' ce lo devo prendere il largo ok Marco ma se c'è di check sul movimento che mamma mia beviti una birra gioca io ho temuto per il tuo abbrinamento io ho un problema aggiornate nel colore oh no non me ne ho accorto vabbè perché se bevo tanto cioè se mangio tanto la birra non riesco a berla e l'avendo una bevuta tanta mi ha fermentato tanto in pancia adesso sono strapieno ho la pancia confissima e che cavolo proviamo dai che c'urlo il negozio del fulclore è stato aggiornato e beva e mi sa che non mi ingaggio da dove sono io allora si attacco la c... ma vediamo maronna se Luca non è inutile ehm ma se puoi darmi l'erba di vino me la mangio l'uomo è un pazzoide e poi ce l'ho io l'erba di vino perché c'è chi la amase ce l'ho perché ce la amase non te te è quella della concentrazione tieni piccolo uomo eh devo aspettare il mio turno nooo sono andato perfetto vabbè uccidiamoci questa io a questo io a questo uomo gli sparo eh tu c'hai mamma mia ma domo guarda guarda come va a velena mo sta bestia inutile a fa mooc sto ciccando tutti tutti i check ecco appunto disse lui facendo un critico vabbè aaaaa bah facciamo un attacco molto basico amici ci penso io col potere dell'uncino attacco disciplina più uno dei fuoco mamma mia mamma mia marco sto a pi più uno dei fuoco mamma mia mamma mia piglia di stavano c'era che buona di che sa di panacea di pannacida comunque dobbiamo esplorare la parte destra della cosa dobbiamo esplorare la parte destra la cosa di giocare carpenter esatto ma va a fangulo Mase non fare come ho fatto io prima Mase fuggisci Mase ha ha bloccato no l'abbiamo già fatta la statua Matteo ma quanto è la prima cosa che ho fatto la statua infatti sono rimasto con bene esperienza tutti non so perché impassibilità mamma mia Mase dopo ma prima non mamma mia Mase quanto ho temuto Mase 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 non puoi più essere un avventuriero infatti sono un fabbro ho vinto una barba vorrei ricordarvi di una volta che ho detto a dado mamma mia a dado le stai schivando tutte e ha preso tipo 20 di danno subito dopo per tank mamma mia quanto cammino ragazzi quanto cammino ha dato ti voglio bene Marco ti meno ragazzi non sto scattando in live no no dai giociamoci sti altri due tre turni così ce la finiamo tanto a casa io vi gioco a golf with your friends ma sto maledetto in casa io ok andiamo a esplorare un po' non ho trovato un cazzo danni da freddo vai Marco attacca quel quello che sembra Barry White quanto non ce la fa vuole dire scusami Ray Charles si immaginiamo non intendessi Barry White anche perché non ci ho sognato per niente vuole dire Ray Charles eh oh ma questi tutti uguali che grande esploratore ma se è meglio di Indiana Jones ed è morto Luca quasi tanto vorrei far vedere che casa io va via golf with your friends e giusto a golf with your friends non ci sta giocando dettagli non penso imboscata ha successo imboscata sul cesso ragionavo che sarei sul cesso il punto il momento più vulnerabile dove puoi trovare un uomo si può attaccare qualcuno attaccalo mentre sul cesso per quanto non li slacciati poi che casino eh quindi hai un equilibrio instabile se tutto non c'entra da fare la cacca però è bruttissima secondo me però ti muovi che c'è la coda dei saiyan appresso magari magari essere straforte non è possibile dov'è quella cosa? sopra nera nera sotto di colore rosa non mi dire che non hai capito che cos'è nera che piace pure a te è il cazzo da qui detto è come picchiare uno che caga cosa? quando? attacco maledizione Marco non puoi finirlo? ci penso io eh dipende faccio dieci di danni fisici se faccio bene no va bene Marco non ti preoccupare adesso verremo tutti quanti avvelenati ma fa culo finchè attaccate con danni fisici va bene 7 d'armatura io sono fortissimo dacci una cosa bella la panacea ce ne ce ne ho già una anche dalla mazza è l'unico che non ce l'ha né libertà usa la panacida la panacida va bene ci faccio era uno dei deserti che ho mangiato da me stai camminando sul posto però che ah ci trovate un santuario eh pigliatelo eh è un pozzo eh ti lo do vabbè vaffanculo tu uomo ricco Masa ho più due al bonus del movimento sono veramente un uomo fortunato bravissimo Masa non si erano trovati altri così andiamo Luca a combattere contro gli oggetti smarriti bello eh esatto bello che bel monaco che sei grazie con questo cappello mi sembri molto un un amish grazie grazie prego prego e mi porta a morire non pensavo fosse un complimento ah è vero hai solo 16 di vita ah ah è vero hai solo 8 di vita ah è vero ciao Marco questo è un mazzo se non mori prima e cazzo sei infiammato the foco hello e che cazzo barca mi ha in doppia concentrazione a sto punto si battene ed ha grazie Dato eh beh l'esultanza da lo ci sta che cazzo io non ho vita però ragazzi sono le 23 finiamo questo questo turno si è finito ora è iniziato uno nuovo ah cazzo cazzo finiamola qui ok eh dai eh dai ragazzi vai questa magnifica avventura con con questo team che è talmente affiattato che la metà basta si conclude qui non manca ringraziamo per averci fatto compagnia in questo sabato delirante vi ricordiamo il nostro canale Instagram e Telegram per sapere quando stiamo per andare in live e con cosa stiamo andando in live vedendo dei fantastici post e delle stories che la metà bastano vi ricordo inoltre il nostro canale YouTube dove potete andare a rivedere tutte le vecchie live che vi siete perse e dato che in questo quando il mu bot è morto vi ricordo che su www.instantgaming.com slash unicorgi potete acquistare giochi a dei unicorgi potete acquistare giochi a bassissimo prezzo e inoltre aiutereste noi poveri stronzi ricordiamo inoltre che noi siamo gli unicorgi facciamo live ogni giorno dalle 22 alle 23 ma tra poco quel bondato sapere andare in live con apescape quindi non mancate perché il retro gaming è sempre brello come il retrosexual e in ultimissimo vi dico che in alto a destra potete mettere barco muori in silenzio in alto a destra potete cliccare sul coricino per essere per diventare follower oppure sostenere diventare degli amicorgi fortissimi con una sub o offrendoci un caffè con il link per le donazioni qui in basso da Mase è tutto a voi la linea tocca a Dado ciao Dado